a cura della redazione giornalistica un cordiale saluto a tutti da massimiliano spiriticchio in studio e da tutti noi di radio speranza in blu la radio della chiesa metropolitana di pescara penne incidente agricolo mortale in località caprafico di casoli in provincia di chieti in cui ha perso la vita purtroppo un uomo di 69 anni originario del posto ma residente a barese l'uomo intorno alle 13 era impegnato a pulire un terreno di sua proprietà utilizzando un trattore gommato che improvvisamente si è rovesciato finendo in un fossato e intrappolandolo il mezzo agricolo gli ha tranciato una gamba al momento dell'incidente l'uomo era solo e l'allarme è stato dato dai familiari che non lo hanno visto rientrare a casa inutili sono stati tentativi di salvarlo da parte dei sanitari del 118 dell'elisoccorso sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di casoli che stanno ricostruendo la dinamica La giunta regionale abruzzese ha approvato ieri una delibera che chiarisce e puntualizza alcuni aspetti degli schemi contrattuali 2019 per quanto riguarda la rete degli operatori della rete privata accreditata Un provvedimento adottato non solo per ovviare a possibili dubbi sull'interpretazione e sull'applicazione ma anche per riscontrare le osservazioni dei ministeri che affiancano il piano di rientro E' stato precisato che il superamento delle degenze giornaliere previste per le singole specialità non è consentito alle case di cura private se non in via eccezionale e nell'ambito della stessa area funzionale omogenea Viene confermato l'obbligo per gli uffici competenti di procedere alle verifiche del tasso di occupazione giornaliero per disciplina in qualunque momento dovesse essere ritenuto necessario Questo per controllare l'attendibilità, la proprietà clinica e organizzativa, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dall'erogatore privato Sull'oscillabilità mensile, la delibera approvata ieri sottolinea che non si può superare l'attretto di spesa annuo e sottolinea anche che il ricorso all'oscillabilità può essere solo eccezionale E con obbligo di tempestiva comunicazione all'ASL di appartenenza La fase avanzata del procedimento di conclusione degli accordi negoziali per l'anno in corso, considerando che scadono il 31 dicembre prossimo Impone di rinviare alla negoziazione 2020 gli ulteriori adeguamenti richiesti dai ministeri affiancanti Permorestando il non superamento del budget assegnato agli erogatori privati Abbiamo stanziato per la prima volta nella storia dei parchi nazionali oltre 85 milioni di euro Lo abbiamo fatto perché questi parchi nazionali devono diventare i punti di riferimento di un diverso modo di concepire la tutela della natura Che coniughi il verde, ma anche il turismo eco-compatibile e la stessa tutela, che è la cosa più importante Lo ha detto il ministro dell'ambiente Sergio Costa a Pescasseroli per incontrare i vertici del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise Abbiamo in animo, con la legge di stabilità, di costituire le zone economiche e ambientali per i parchi, ha detto ancora Costa Quindi vuol dire, ha aggiunto, dare di più non solo in termini economici ma anche normativi alle persone che vivono nei parchi Riguardo al PNALM, cioè al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ha aggiunto Costa La nuova amministrazione, la nuova governance è stata scelta E' stata una scelta che ho fatto io insieme ai presidenti delle tre regioni, Abruzzo, Lazio e Molise Non ho dovuto trattare o negoziare, ha detto ancora il ministro Questo vuol dire che c'è la voglia e anche l'aspettativa di grandi cose Le giornate fai d'autunno organizzate dal Fondo Ambiente Italiano sabato e domenica scorsi Hanno riportato un ottimo risultato nella nostra regione Un grande afflusso di persone, visitatori entusiasti e consapevoli Ha potuto scoprire e visitare le 63 eccellenti aperture proposte in 16 borghi E ha potuto apprezzare e godere delle meravigliose bellezze naturalistiche e culturali del territorio d'Abruzzo 18.100 presenze stimate nei due giorni di apertura Favorite sicuramente dalle calde giornate autunnali E da un evidente maggior radicamento del FAI sul territorio abruzzese Grazie alla campagna nazionale di raccolta fondi Ricordati di salvare l'Italia E all'importante azione di sensibilizzazione e promozione Sui temi della fragilità di un patrimonio che invecchia E sulla sua costante manutenzione L'appuntamento con le giornate FAI Si conferma come il più importante evento dedicato Alla conoscenza e alla salvaguardia dei beni culturali Commenta lo stesso Fondo Ambiente Italiano Dopo la partecipazione alla carovana della salute della FNP CISL L'associazione Domenico Allegrino prosegue la sua campagna di prevenzione Dell'Alzheimer e delle demenze senili Nel poliambulatorio di Via Lento a Pescara Dove sarà possibile essere sottoposti a test cognitivi gratuiti Sono state numerose infatti le persone che sabato Si sono recate nella postazione allestita in Piazza Salotto Per chiedere informazioni ai volontari E colloqui con le psicologhe della ONLUS C'è davvero tanta preoccupazione per la diffusione delle demenze senili E per la familiarità Cioè per casi che si sono già verificati nel nucleo familiare Spiega la Presidente Antonella Allegrino Sabato abbiamo sottoposto ai test una ventina di persone Di età compresa tra i 42 e i 77 anni In 5 casi sono state consigliate visite neurologiche Perché i controlli hanno rilevato segnali preoccupanti Gli altri hanno dato esito negativo Una quarantina di persone si sono prenotate Per eseguire i test al poliambulatorio nei prossimi giorni Oltre 105 appuntamenti in agenda con wire Cioè compratori internazionali Soprattutto di Russia, Stati Uniti, Polonia, Repubblica Ceca Olanda, Belgio, Cina Oltre 60 appuntamenti con operatori italiani E l'Abruzzo presentato come una terra ricca di location cinematografiche È un primo bilancio della presenza dell'Abruzzo Alla TTG Travel Experience di Rimini Nello stand della regione inaugurato dall'assessore al turismo Mauro Febbo Coordinatore della Commissione Turismo e Industria Alberghiera della Conferenza delle Regioni Hanno lavorato 8 coespositori in rappresentanza dell'intera offerta turistica regionale 6 DMC, cioè Destination Management Company Per la prima volta nella formula aggregata della nuova governance turistica E due consorsi regionali Soddisfacente il risultato di aggregazione e integrazione raggiunto fra le DMC Commenta Febbo In questa prima uscita esterna Un primo importante passaggio rispetto al percorso di ottimizzazione della governance turistica regionale Per le prossime occasioni, prosegue l'assessore Ci auguriamo che possano convergere anche altri operatori e consorsi Non ancora integrati in questa nuova fase organizzativa del percorso intrapreso Rappresentati nello stand mare e montagna invernale, turismo culturale e nei borghi, natura e vacanza attiva Itinerari esperienziali e tailor made per clientela medio-alta Tra le diverse forme di ospitalità, oltre alla vacanza in millaggi, campeggi e hotel tradizionali Richieste anche piccole strutture, ma anche bille e case storiche Tra le mete di grande interesse anche i parchi abruzzesi Oggi è martedì 15 ottobre La chiesa celebra la memoria di Santa Teresa Davila, vergine dottore della chiesa Nella diocesi di Termoli-Larino Si celebra l'anniversario della dedicazione della chiesa concattedrale Un'ottima notizia C'è stato il passaggio di consegna al comando provinciale dei vigili del fuoco di Pescara Fra Vincenzo Palano, che va in pensione, e il nuovo comandante reggente Daniele Centi Vice direttore regionale dei vigili in Abruzzo Da oggi mi toglierò la divisa, ha detto Palano Ma quella dei vigili non si staccherà mai dal mio corpo Arrivo in un comando importante dove spero di restare da comandante effettivo, ha dichiarato Centi Ho lavorato nei terremoti di Marche, Umbria e in quello di L'Aquila E in 29 anni, da quando indosso la divisa, Ferrara, Teramo e Rieti Palano lascia un gruppo di persone capaci, ha detto In questi tre anni abbiamo dovuto fare i conti con tanti eventi, anche dolorosi Come i terremoti che stanno diventando episodi ciclici Non posso dimenticare Rigopiano, che al di là della tragedia immane per la perdita di vite umane Deve portarci a una maggiore cultura di prevenzione e a una valutazione del rischio C'è ancora molto da fare, basti pensare alla grandinata del 10 luglio scorso Siamo alle previsioni del tempo Oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo molto nuvoloso fino a metà pomeriggio Nel resto del pomeriggio è molto nuvoloso in serata con temperature da 15 a 21 gradi e 20 deboli Cielo molto nuvoloso fino a metà mattino, nuvoloso dalla tarda mattinata a tutto il pomeriggio Molto nuvoloso nelle prime ore della sera È coperto in tarda serata con temperature da 15 a 23 gradi e 20 deboli Il mare è previsto da quasi calmo a poco mosso Ed era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario Da Massimiliano Spiriticchio in studio Da tutti noi di Radio Speranza in blu La radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne A voi tutti, grazie per averci seguito A risentirci Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie A cura della redazione giornalistica A cura della chiesa metropolitana di Pescara Penne A cura della chiesa metropolitana di Pescara Penne